Pronto? Penuncio c'è uno! Ehi, sto aggiustando la bicicletta qua! Bambini, il 14 maggio a Bari e in tutta Italia, ma pure a Bari, sta bimbi in bici! Quindi, bambini, dita papà, basta stare alla televisione, prendi la bicicletta e andiamo a fare la passeggiata! Mamma, basta stare su Facebook, prendi la bicicletta e andiamo a fare la passeggiata! Ci vediamo là, sto pure io, ma vediamo cosa è a Bipo se ci prendiamo un tandem! Mi raccomando, venite, se no se è a Bipo gli dispiace e sarà grande! Ci vediamo il 14 maggio!